Un viaggio nella memoria e per la memoria. Per il quinto anno, docenti e studenti del liceo Publio Virgilio Marone di Avellino rendono un doveroso omaggio alla storia perché gli orrori della storia non abbiano più a ripetersi. La visita al campo di concentramento in Polonia di Auschwitz-Birkenau rappresenta un vero momento di riflessione a cui i ragazzi si preparano durante l'anno, si documentano, approfondiscono e conoscono i drammatici eventi della Seconda Guerra Mondiale. Partiremo appunto martedì prossimo per la Polonia e anche questo è un nostro riflessione su quelli che sono determinati aspetti storici che spesso si ripresentano in maniera lacerante e drammatica. I ragazzi devono conoscere questa realtà perché la memoria non è soltanto ricordare ma soprattutto intensificare l'aspetto umanitario. Io ho avuto la fortuna di partecipare a questo progetto e di fare il viaggio ad Auschwitz, è sicuramente un'opportunità che la scuola deve dare ai studenti per farli diventare cittadini consapevoli della realtà e consapevoli della storia. Il percorso parte a inizio anno preparandoci sia a livello storico ma soprattutto a livello umano per quello che poi è un viaggio che non è come tutti gli altri, è soprattutto un'esperienza che va fatta e gli studenti hanno il diritto e il dovere di essere sensibilizzati a queste tematiche molto molto serie e questa scuola ci dà anche questa opportunità.